si schernisce ma lo è e che per noi è molto importante voi sapete siamo alla quattordicesima edizione della festa della storia franco non ne ha mancata una viene sempre ma io devo dire anche un'altra cosa che forse non interesserà molti ma io chiamavo se con la certezza che veniva sicuramente franco fin dagli anni 80 fare lezioni ai miei studenti che erano entusiasti tutte le volte che lui arrivava e con una disponibilità che ovviamente non è comune oggi ci parla di uno dei temi importanti di questa festa della storia voi sapete il titolo e contesti clima ambiente risorse per la storia futuro l'abbiamo scelto perché effettivamente è uno dei temi più pressanti quasi in maniera quotidiana con una urgenza che oramai ci fa credere diciamo che i più pessimisti pensano che oramai abbiamo superato la linea o il punto di non ritorno per alcuni fenomeni speriamo che non sia così anzi auguriamoci che non sia così di certo noi vedremo oggi come in tutti gli altri eventi di questo argomento che si succederanno questa settimana come il cambiamento climatico in realtà c'è sempre stato a volte con effetti estremi come si dice drammatici quello che in realtà noi dobbiamo credo acquisire è che su questo cambiamento dalla rivoluzione industriale in poi la mano dell'uomo diventata sempre più prevalente fino a diventare probabilmente nei tempi recenti addirittura quasi determinante quindi si dovranno davvero avere forme di di non dico adattamento di consapevolezza su quello che dovremo cambiare i nostri comportamenti in maniera collettiva per quanto riguarda l'argomento di questa sera si ricordano due alluvioni di firenze molto lontane nel tempo ma di cui le persone più attempate con che sono in questa sala ricorderanno l'ultima drammatica del 1966 che fra l'altro ebbe anche delle conseguenze anche qui da noi ma non così tragiche come appunto a firenze quello che ricordiamo anche fu la grande solidarietà che si mobilitò a seguito di quei disastri e credo una consapevolezza in parte nuova dei tesori di cui firenze e custode attraverso quell'attività di studenti soldati volontari che hanno salvato migliaia di oggetti migliaia di testi manoscritti opere d'arte e che hanno evidentemente portato fino ai nostri giorni con la loro azione di allora dei preziosi tesori che ci invidiano in tutto il mondo io cedo quindi molto volentieri la parola a franco cardini ringraziandolo di nuovo per questa sua costante presenza nella peste internazionale della storia si sente sì buon pomeriggio a tutti grazie naturalmente per essere qui grazie amico e collega non ando darini ma io venendo alla festa e la storia ordinariamente faccio non faccio una grande strada perché insomma ormai i collegamenti da tra firenze e bologna sono quelli di un metro ma ci vengo sempre molto molto volentieri anche perché appunto al di là del tono con cui l'ondarini lo dice è effettivamente è stata una scommessa questa la quale io ho creduto per quanto mi riguarda pur restando sempre un po marginale nella nel lavoro sostanziale di preparazione della della festa e la storia ma io non ho mai avuto parte nel senso che non ho fatto mai un gran lavoro oltre quello di venire qualche volta a parlare una volta anche a prendere un premio non so quanto meritato però molto prestigioso e che adesso attualmente sto cercando disperatamente di salvare dalle grinfie il mio gatto un gatto di sei mesi che è nella fase in cui si rovescia tutto quello che è fragile o suscettibile di essere spezzato e quindi anche il premio regoff è un ponso un oggetto a rischio cercato naturalmente di blindarlo bene stasera è evidente che nell'ambito del soggetto abbastanza catastrofico che quest'anno è stato scelto io dovrò intrattenervi su un tema se non altro particolarmente umido che è quello dell'alluvione di Firenze ovviamente che per noi è quella del 1996 per noi uomini e donne del ventunesimo secolo un alluvione della del 1966 ho detto 96 perché probabilmente per un certo una certa propensione all'apocalittica che ormai ci riguarda un po' tutti ho visto che è passato inosservato dai media e francamente me ne dispiace me ne dispiace perché è fra l'altro una fonte interessante anzi ve la segnalo facendo un po' di autopropaganda ho visto che i media tutti i media giornali televisioni a meno per quanto io ne ho visto e me ne sono informato perché la televisione la guardo poco però mi sono informato con persone che invece la guardano molto e nessuno ne sapeva nulla ho visto che 19 il 19 ottobre 19 ottobre scorso quasi in coincidenza con il suo compleanno fra l'altro il presidente putin ha fatto un importantissimo discorso alla fondazione valdai che è un po' uno dei fiori all'occhiello dell'attività politico culturale della russia post sovietica naturalmente inutile dire che soci sul mar nero è un po' la sanremo della russia lo è sempre stata il maresciallo stalin aveva addirittura tre ville che naturalmente non erano sue personalmente erano ville di stato nella città di soci e c'è un interessantissimo contributo veramente molto molto serio e molto documentato il presidente putin che mi ha sorpreso o no perché devo dire che nella sua asciuttezza lui è sempre molto preciso si fa notare per precisione non parliamo poi dei confronti quando si parla quando lo si mette in confronto con altri statisti del di questi di questi mesi che non sono altrettanto precisi quando parlano ma è importante perché il discorso non è catastrofico non è catastrofico putin è tutt'altro che un catastrofista e dichiara di non esserlo però mette in fila alcuni segnali a proposito ad esempio della sempre risorgente e sempre fallimentare questione del disarmo generale del disarmo nucleare generale non il disarmo assoluto non quello delle armi convenzionali che molte delle quali ormai sono altrettanto letali di quella nucleare ma perlomeno per il disarmo nucleare e lì appunto il presidente putin fa anche delle considerazioni in generale sulle catastrofi e il catastrofismo che sono storicamente interessanti partendo appunto da questo concetto non tanto apocalittico quanto piuttosto genetico nel senso dell'aggettivo del genesi il concetto di distruzione creativa che è un concetto piuttosto allarmante che oggi va molto di moda soprattutto nella sociologia statunitense cioè la costruzione che serve a ricostruire sono come dice mefistofere nel faust sono lo spirito che vuole sempre il male crea sempre il bene quindi la distruzione come seme di nuove costruzioni è un tema antico anche un tema ciclico e perfino religioso io mi sono permesso di mettere in circuito anzi il la versione inglese naturalmente del discorso del presidente putin sul mio blog in minima cardiniana perché ho ritenuto che insomma sia bene che una cosa del genere è una fonte storica di grande valore sia bene che sia conosciuta non mi ha stupito ne posso capire le ragioni ma mi ha un po francamente deluso e irritato il comportamento dei media insomma considerando che per altre per altre occasioni magari molto meno importanti il presidente putin viene viene sempre messo un po in prima in prima pagina magari in occasioni così che lo metta in una certa luce in questa in questa circostanza invece si è preferito metterlo in ombra è peccato perché da delle informazioni anche molto importanti anche sulla vita diplomatica internazionale via discorrendo questo per introdurre la misura in cui è necessario introdurlo un tema come quello dei rapporto tra clima e ambiente visto attraverso una prospettiva molto particolare cioè la prospettiva del rapporto fra l'arno e quella porzione del suo corso il cosiddetto medio val d'arno a cui centro sorge la città di Firenze. La necessaria premessa necessaria ma anche preonastica a un discorso del genere è che evidentemente tutti lo sapete anche quelli che magari non lo sapevano fino ad oggi in occasione di questa edizione della festa della storia stanno sempre più prendendone atto esiste come sapete una climatologia storica e non esiste da ieri ci sono ormai anche dei classici storici per noi medievisti per esempio ma anche in senso assoluto mi limiterei a citare le opere di Emanuele Ruola di Uri a proposito che sono opere se non non si possono definire divulgative però sono le possiamo definire di ampia sintesi insomma sono sono tutt'altro che ricerche in sé originali anche se il livello di informazione di esposizione è naturalmente sempre tenuto da la diuria da par suo per così dire però che cosa ci dice lui ci dice cose in fondo sappiamo forse non oso dire dai banchi del liceo perché insomma quando ho fatto io il liceo negli anni 50 ancora queste cose di climatologia storica non ce le dicevano però ho visto che nei manuali un pochino più recenti ormai almeno da una ventina d'anni si tiene presente questi problemi e si parla della sinusoide climatica si parla dell'optimum e del pessimum optimum che poi può essere anche un optimum che la parola sembrerebbe rassicurante no? poi è un optimum nel senso che è una un livello alto quanto a temperatura dell'ambiente quindi parlare di optimum e di pessimum in questo caso denuncia un atteggiamento mentale una struttura anzi una struttura di fondo mentale molto interessante è quella secondo la quale il caldo è buono e il freddo è cattivo così come la luce è buona e il buio è cattivo e questo evidentemente beh è un principio che potrebbe essere messo in discussione da vari punti di vista fenomenologici l'eccesso di caldo come l'eccesso di luce non hanno mai fatto non hanno mai fatto bene a nessuno però i parametri evidentemente non sono storici sono metastorici sono simbolici forse sono apocalittici sono parametri che si ritrovano piuttosto per esempio nelle storie delle religioni anche in religioni che non saranno quella cristiana per quanto c'è anche lì questa alternanza di caldo e di freddo di luce e di tenebra ma si trovano per esempio nel mondo induistico buddistico molto precisamente il mondo induistico buddistico è stato attoccato profondamente l'occidente medievale in un paio di secoli fra la fine dell'undicesimo e la metà del tredicesimo quando si è diffusa in occidente un fenomeno religioso che la chiesa cattolica e la società del tempo ha trattato da eresia ma che in realtà non era un'eresia cristiana era piuttosto una religione d'origine persiana principalmente passata attraverso i Balcani ed era una religione appartenente al grande universo masdaico mitraistico e quindi un universo culturalmente parlando indopersiano non insisterò su queste cose ma è abbastanza importante comunque sapere quello che noi in realtà sappiamo bene il clima incide molto sull'ambiente lo abbiamo tutto sommato sempre saputo e abbiamo fino ad alcuni decenni o sono presso questa realtà stringendola entro due parametri ancora una volta uno positivo e uno negativo quello positivo è che sì le vicende climatiche sono evidentemente da tenere in conto nella nostra vita individuale e societaria entro certi limiti non si può se non apportare dei pagliativi alle situazioni di disagio che esse creano e ne creano però si è sempre si è anche sempre pensato che tutto sommato salvo in particolari contingenze l'essere umano è in grado di convivere con tutte con almeno con i disagi che vengono dal clima se poi noi quando pensiamo al clima pensiamo ai cataclismi che il clima può attivare beh allora se li mettiamo in rapporto con altri tipi di cataclismi che non sono climatici che vanno dalle eruzioni vulcaniche fino ai terremoti e allora il quadro che ne emerge è il quadro di una società umana che è concettualmente parlando è un quadro molto fragile molto poco capace di resistere a certi eventi di natura tellurica oppure cosmica e che naturalmente si affida in generale più alla capacità di sopportazione e di rimedio posteriore che non ha quella di prevenzione anche perché certe cose per loro natura è evidente che è difficile prevenirle un uragano nella fascia climatica o meglio nelle fasce climatiche in cui si formano gli uragani possono oggi un uragano si può prevedere si può prevedere anche con molta precisione si può prevedere il tipo di danno che farà e all'interno di questo tipo di danno quali misure si possono prendere per circoscriverlo e quali misure sono impossibili a prendersi ma evidentemente la prevenzione di un uragano o di un terremoto può essere soltanto quella di apprestare le difese nell'atto in cui il cataclisma si presenta o pochissimi istanti prima. Nel caso del clima il discorso è diverso noi siamo davanti appunto a una curva sinusoidale che dipende da fenomeni astronomici noti il rapporto della linea dell'equatore con il raggio del sole e via discorrendo e che in linea di massima percorre tutta la storia del nostro pianeta facendo sì che a una fase ascendente che ha più o meno un arco, una luce grosso modo di un mezzo millennio circa segua una fase discendente che ha un'altra luce di un mezzo millennio circa qualcuno ha fatto l'esempio di un ponte ad arcate che si riflette nell'acqua per dare l'idea di questa linea ondulatoria e attorno naturalmente a un asse che è l'asse mediana di una di un clima ideale che dovrebbe mantenersi sempre costante. Storicamente parlando la città di Pompei per esempio indipendentemente dall'eruzione anzi grazie all'eruzione anche se un grazie fra virgolette grazie all'eruzione si è mantenuta abbastanza intatta più di molte altre città che l'eruzione non hanno avuto anche perché appunto è stata scavata più recentemente i risultati dell'eruzione l'avevano sigillata e noi ci siamo trovati davanti a una città senza dubbio di villeggiatura insomma già il panorama di Ercolano con le insule è tutto diverso dal panorama di Domus e di Domus di famiglie veramente molto ricche, molto opulente ovviamente questa città di villeggiatura dell'antichità però c'è un dato obiettivo Pompei è genialmente pensata per far circolare le correnti d'aria e per raffreddarle siamo in un mondo che può vivere quasi amprenere anzi in un mondo che vuole che le sue case che tutte le sue stanze anche le più riposte siano continuamente percorse d'aria fresca e che ci dice molto evidentemente sul clima del primo secolo astraendo da altre ragioni per cui questo non sarebbe potuto essere possibile una Pompei del sesto secolo dopo Cristo noi non ce la potremmo mai immaginare perché noi sappiamo e lo sappiamo anche da prove anche da prove di laboratorio eccetera che ormai sono comuni e che si insegnano anche nelle scuole anche da quelle evidenze empiriche che sono anche quelle più diffuse che tutti conoscono i cerchi concentrici nei tronchi degli alberi tagliati che sono certamente cerchi concentrici ma che hanno uno spessore più o meno largo a seconda che l'annata corrispondente alla crescita di quel tipo particolare di albero sia stata un'annata più o meno calda e più o meno fredda Leruala Diori nel suo libro di sintesi fa due esempi a cui dedica molte pagine ciascuno e uno riguarda i cerchi nei tronchi degli alberi l'altro riguarda la struttura interna di una sezione di ghiaccio polare artico-antartico non credo ci sia differenza sottoposta a quella operazione che gli americani o meglio veramente la parola è inglese diciamo che gli inglesi chiamano coaring e che si traduce perfettamente in italiano anche se in italiano fa un po' sorridere il carotaggio e qui significa che si prende un grosso tubo di metallo anzi non di metallo ma di un acciaio particolare si penetra lo spessore del ghiaccio millenario e poi si mette sotto osservazione la carota cioè la lunga sezione cilindrica del ghiaccio che così è stato asportato e notiamo quindi esattamente quello che notiamo nel legno notiamo come nel corso degli anni la stratificazione successiva dell'acqua ghiacciata è in qualche anno più compatta in qualche altro anno più ristretta in certi anni più ricca di intusioni d'aria via discorrendo e da questa deduciamo appunto alcune cose sul livello e sulla intensità del mutamento climatico mutamento climatico che appunto passa da un optimum all'altro nel giro di un millennio in pratica il millennio in cui aperto da Gesù se preferite da Augusto è stato caratterizzato da un primo secolo di ottimo clima e è stato necessario aspettare circa otto novecento anni se volete farci fratonda diciamo pure un millennio e si arriva al fatidico anno anno mille che poi tutti noi sappiamo che in realtà nell'anno mille non è successo proprio nulla ma non si può proprio dire che non sia successo proprio nulla ho un po' imbarazzo a parlare di queste cose nella città in cui ha studiato e ha scritto per tanti anni l'amico e collega Glauco Maria Cantarella che queste cose le ha studiate molto attentamente che è stato preceduto da altri studiosi che l'avevano fatto ma sappiamo e questo lo sappiamo per certo che certamente nell'anno mille il clima era migliore negli anni dei secoli precedenti si poteva navigare per esempio i mari nordici e infatti c'erano gli iceberg questo senza dubbio ma la calotta il pack la calotta di ghiaccio continuo si era rotta e questo è un sintomo molto preciso poi ci sono stati altri sintomi nel pieno dodicesimo secolo Jean-Marc Bloch lo ricordava in questa sua raccolta di saggi su cui abbiamo studiato per generazioni lavoro e tecnica nel medioevo c'è una pagina che tutti gli studenti imparavano perché è una pagina anche che restava bene impressa in cui lui ricordava come il vescovo di York si facesse il suo vino da messa nella sua diocesi qualche decennio più tardi il povero vescovo di York il vino da messa lo doveva andare a comprare in Francia perché era cambiato il clima e quindi le vigne gli si erano bruciate e lui le aveva dovute bruciate per il freddo intendo e quindi lui le aveva dovute estirpare ha a che fare l'alluvione del 1333 la data pare quasi simbolica un qualche cosa di apocalittico anche il 1966 ha qualcosa di apocalittico ma tutte queste sono naturalmente coincidenze ha a che fare il 1333 con la sinusoide climatica beh senza dubbio voi sapete per esempio che l'Europa è stata interessata da un lunghissimo periodo di freddo direi quasi glaciale dalla prima metà del trecento grossomodo fino a verso l'inizio del settecento decennio più decennio meno in cui naturalmente si sono anche diffuse molte malattie epidemiche nel tempo delle grandi pesti quella del 1348 presentata da Boccaccio quella del 1630 di cui parla in Manzoni e queste epidemie hanno la caratteristica di incrudelire soprattutto d'estate però all'interno di periodi di raffreddamento generale quando ovviamente in seguito al raffreddamento almeno nella situazione socio-economica pre-industriale oggi il discorso cambierebbe evidentemente dentro certi limiti e in un certo modo quando naturalmente l'agricoltura negli anni freddi risente del clima le annate sono cattive e quindi si crea un circolo vizioso annata cattiva, carestia, indemorimento delle risorse naturali che sono nell'essere umano essenzialmente dipendono essenzialmente dall'alimentazione quindi crescita della mortalità soprattutto infantile o anche delle persone molto anziane e questo circolo vizioso questo circolo tragico praticamente incide potentemente sulla società ecco fra 300 e 700 noi abbiamo avuto questa situazione e all'interno di questa situazione sono nati e osservano anche molti studiosi anche fenomeni che non hanno di per sé nulla a che fare direttamente con il clima ma che sono stati determinati da una da una somma di concause fra cui lo storico deve mettere in conto anche il clima di tensione che si crea in una società che si sente climaticamente assediata e quindi proprio in quel tempo al tempo del pessimum climatico europeo della piccola glaciazione come la si usa a chiamare noi abbiamo avuto un periodo incessante di guerre abbiamo avuto evidentemente non solo le carestie e le epidemie ma anche le guerre quindi i cavalieri dell'Apocalisse messi tutti in fila e anche una serie di turbamenti individuali e collettivi che si possano essere espressi nei modi più vari che vanno dall'ondata delle riforme all'interno delle chiese cristiane fino alla caccia alle streghe per esempio beh sta di fatto che alla fine di questo periodo all'inizio dell'ottocento cioè la sinusoide climatica ha fatto per esempio una vittima illustre anche se personalmente non è stato toccato se non in maniera molto marginale personalmente, fisicamente però lo è stato nella sua funzione pubblica di capo di stato e di generale di un esercito aggressore di un esercito che stava tornando indietro da una terra che aveva assediata assalita l'imperatore Bonaparte Napoleone Napoleone durante la ritirata di Russia a un certo punto si trova davanti in pieno febbraio alla Berezna ghiacciata e le sue guide che sono guide russe ma non c'è bisogno di pensare a una combina no no in buona fede molto probabilmente lo assicurano che i carriaggi e i cannoni potranno passare tranquillamente come si è sempre fatto non è vero che si è sempre fatto lo si è fatto dal tre quattrocento in poi prima no ma la memoria delle guide russe non arrivava a un periodo precedente erano molti secoli che si faceva chiunque abbia presente certi certi dipinti olandesi dei vedutisti olandesi del seicento si trova davanti a questo questi paesaggi quasi alla Bregu o alla Bosch perché sembrano surreali dove in un paesaggio innevato si vedono dei carri di birra guidati da cavalli che passano su fiumi ghiacciati noi per molto tempo abbiamo detto beh questo è l'iperbole della pittura fiamminga olandese precisissima nei particolari ma fantastica nel suo insieme invece no fra tre e settecento questo si poteva fare all'inizio dell'ottocento i cannoni di Napoleone sono calati in fondo in fondo alla Berezna insieme anche ai cavalleggeri ai carriaggi è stato un un disastro che non a caso i testimoni oculari citano proprio l'episodio del Mar Rosso passato da Mosè che poi l'esercito egeziano invece che viene va dietro agli ebrei di Mosè non riesce a passare perché le acque tornano e si richiudono a Firenze non è successo nulla evidentemente di questo però è successo qualche cosa che se qualcuno di voi fosse interessato interessato entro certi limiti è chiaro che è inutile è inutile rivolgersi agli specialisti quando si dicono queste cose gli specialisti sanno bene dove andare a dove andare a cercare le informazioni no ma chi specialista di queste cose non è chi non è trecentista chi non è studioso del clima o studioso del quattordicesimo secolo l'approccio migliore per capire l'alluvione di Firenze del 1333 non è quella della quale io vorrei parlare quasi esclusivamente ma è quella sulla quale come medievista posso dire qualcosa di più quell'altra appartiene anche alla mia esperienza personale se avanza cinque minuti vi racconto anche quella beh se qualcuno volesse capire il clima dell'alluvione di Firenze dovrebbe rivolgersi a una pagina illustrissima di della nostra letteratura dove l'alluvione non è nemmeno ricordata si parla di un episodio avvenuto quindici anni dopo della peste che era partita verso il 45 46 dall'Asia e poi era arrivata progressivamente verso il 47 arriva a Messina e da Messina poi si diffonde in tutta la penisola e a Firenze arriva nella primavera ai 48 si possono si possono seguire le tappe del progresso della dell'epidemia perché ne abbiamo le fonti che ce ne parlano la pagina a cui alludo è bellissimo poco frequentato per la verità prologo della la cornice come si usa dire del Decameron di Giovanni Boccaccio in generale oggi è stata molto rivalutata questa cornice si è scoperta che è un romanzo anzi che è un romanzo all'interno del quale le singole narrazioni hanno una funzione particolare molto come dire molto ovvia e strutturata per molto tempo come sapete Decameron è stato letto essenzialmente come una raccolta di novelle quindi in modo miscellaneo chi ha fatto l'esperienza e la lettura della cornice si è trovato davanti a un'opera letteraria fra l'altro di grande spessore un'opera letteraria che contiene la chiave per capire tutto il racconto perché il racconto è il racconto di dieci novellatori tre uomini e sette fanciulle o signore e le quali i quali si muovono in una serie di giorni raccontando ogni giorno ciascuno di loro una novella diversa su un certo tema e attraverso le novelle Boccaccio costruisce i personaggi non solo ci racconta la novella ma ce la racconta come l'ha raccontata quel personaggio con tutte le sue caratteristiche con tutte anche le sue manie magari con tutti i suoi con tutto il suo universo mentale la novella di Griselda se invece di raccontarla Dioneo l'avesse raccontata Filostrat l'avrebbe raccontata in tutta altra maniera duole non avere una decina di De Cameron in cui Boccaccio si divertisse a raccontare le stesse novelle con il linguaggio di novellatori diversi da quelli che lui mette volta per volta in azione perché non parla mai in un modo asettico in quanto narratore unico passa sempre attraverso il filtro di un personaggio costruito e la costruzione non è soltanto psicologica ma è anche stilistica dico naturalmente cose se qualcuno di voi è esperto di cose boccacciane beh insomma dirà che sta assistendo alla scoperta dell'acqua calda ma invece forse è bene ricordarlo per chi magari pur avendo letto il Boccaccio è facilissimo che tutti noi o quasi tutti noi l'abbiamo letto e magari letto e riletto queste cose possono sfuggire bene Boccaccio descrive una città impaurita descrive una città in preda al disordine descrive una città fragile una città dalle strutture sociali che non reggono più una città dove le istituzioni sono scomparse una città dove addirittura non si fanno più i funerali c'è un elemento postumo rispetto al disordine creato dall'alluvione beh questo non è detto che lo si dica esplicitamente ma se voi pensate che il periodo tra l'alluvione anzi già il periodo di prima dell'alluvione e il periodo in cui Boccaccio pone il suo racconto lui naturalmente lo scrive qualche anno più tardi del 48 beh si è trattato di una ventina d'anni di continui rovesci per la città di Firenze prima di tutto una falsa partenza una partenza sbagliata nel 1323 si inaugurano le grandi mura di Firenze sono mura pensate per raccogliere una popolazione almeno quattro volte più grande di quella che c'è in quel momento che stando ai calcoli che mi sembra anche gli studiosi moderni accettino era una popolazione dalle 90 alle 120 mila persone quindi una popolazione notevole bisogna andare in Europa bisogna andare a Parigi per trovare forse circa il doppio Londra era sensibilmente più piccola per non parlare di altre città bene questa Firenze è stata provata ferocemente qualcuno sostiene che l'ultima cerchia di mura non le ha portato fortuna perché immediatamente dopo sono cominciate a succedere una serie di cose anzitutto guerre guerre toscane nelle quali Firenze in generale alleata sempre degli angioini di Napoli non si dimostra all'altezza della situazione perde continuamente colpi assiste all'ingresso in Toscana di forze estrane alla Toscana stessa re di Francia all'imperatore al signore al signore di Verona che a un certo punto si compra Lucca per denaro sonante Lucca era una città che da tempo i fiorentini speravano di far propria e non ci sono mai riusciti e c'è voluto il concilio e c'è voluto il congresso di Vienna per immettere Lucca nel Granducato di Toscana dopo queste guerre molto negative e distruttive la guerra contro Guccione la Fagiola poi contro Castruccio Castracani è stata una guerra combattuta a colpi di vigne tagliate di campi di messi distrutte volontariamente vigne volontariamente tagliate messi volontariamente distrutti quindi una guerra alla popolazione non solo agli armati e poi arriva l'alluvione del 1333 dopo l'alluvione del 1333 in una città già molto provata si ha un crack finanziario anche se il crack finanziario è causato da alcune grandi famiglie che erano anche imprese economico finanziarie che si salvano si rifugiano nella proprietà terriera si fanno investire dall'imperatore o dal papa di titoli feudali e reinvestono il loro danaro o meglio veramente reinvestono il danaro altrui in beni mobili mentre invece i piccoli e medi risparmiatori che avevano prestato questo danaro agli imprenditori perché stavano compiendo una serie di speculazioni questo danaro lo perdono e allora il crack dei bardi dei peruzzi degli acciaioli degli anni tra 43 e 45 invece di essere i crack dei bardi dei peruzzi e degli acciaioli che diventano grandi feudatari del napoletano diventano addirittura possessori di intere isole nell'Egeo oppure e questo vale per i buon del Monti e gli acciaioli oppure un pochino più modestamente restano proprietari del contato come come gli Alberti come i bardi di Vernio e via discorrendo la città è molto provata da queste cose al punto che a un certo punto si dà a una specie di dittatura militare l'aveva già fatto i fiorentini cercano di mettersi al passo i tempi è l'inizio del trecento è il tempo delle signorie il signore molto spesso non necessariamente ma molto spesso è un imprenditore di guerra d'origine più o meno aristocratica che viene da fuori da altre città qualche volta anche da fuori d'Italia nel nostro caso noi abbiamo fra 42 e 43 un tentativo di dittatura del di un personaggio legato agli angiò di Napoli che è Gualtieri VI duca nominale di Atene nominale perché il suo feudo di Atene non esisteva ne aveva soltanto il titolo il quale cerca di organizzare una sorta di regime personalistico a Firenze e fallisce e poi abbiamo alla fine di questo episodio di questo iter crack finanziario dittatura fallita ripresa di un governo oligarchico molto duro che non permette nemmeno un nuovo decollo economico perché la città è stata messa in ginocchio dalla crisi economica precedente e poi arriva la peste ecco la l'alluvione del 33 segna l'inizio di questa sorta di totentans di danza macabra dopo l'alluvione del 33 Firenze non riesce a riprendersi gli osservatori di oggi hanno notato che mutatis mutandis è successa la stessa cosa anche nella Firenze del 1966 e questo potrebbe essere una esile filo d'Arianna da tenere presente per svolgere un tema di alluvioni parallele per così dire ma è vero fino a un certo punto perché è verissimo se voi vi accontentate di di gusci più o meno lessicali perché penso che altro non siano è verissimo che all'alluvione del 1333 e all'alluvione del 1966 a Firenze si è tenuto dietro è stato si è dovuto affrontare una crisi cittadina una crisi cittadina profonda che ha avuto degli esiti specifici anche sull'assetto urbanistico e quindi sul paesaggio come ne ha avuti evidentemente sull'assetto socio-economico se ci si ferma a queste constatazioni è evidente che c'è un parallelismo se si procede nella ricerca analitica delle di queste due situazioni ci si accorge che queste due situazioni sono totalmente diverse l'una dall'altra che quindi il paragone può essere allettante regge se ci si contenta di un assetto molto generale per non di generico e non regge più come spesso succede nella storia se si entrano nei particolari comunque nel 1333 nel novembre si ebbe come esattamente i giorni sono sempre quelli sono i giorni in cui solitamente nel clima autunnale avvene una certa una certa falla entrano in gioco correnti atlantiche via discorrendo sono cose di lungo periodo e quindi alla fine dell'optimum che era cominciato intorno al decimo un decimo secolo e che ormai si era esaurito il clima stava peggiorando e sarebbe sempre più peggiorato fino alla all'estremo limite della fase che si situa intorno alla fine del sedicesimo secolo poi lentamente si ricomincia a risalire beh i momenti delle due alluvioni se noi li sistemiamo sulla vicenda della sinusoide climatica europea noi vediamo che sono due momenti molto diversi e questo è un elemento che va tenuto in conto perché è una controindicazione al parlarne in parallelo Firenze nel 1333 è una città che è arrivata come tutta l'emisfera australe al capolinea dell'Optimum ormai le giornate si vanno anzi le annate si vanno sempre più incubendo raffreddando eccetera si entra nella fase da cui si uscirà solo alla fine del settecento e primi dell'ottocento e che avrà un momento più duro tanto duro che noi lo chiamiamo appunto la piccola glaciazione questo periodo di Pessimum comincia allora più o meno viceversa l'alluvione del 1966 arriva in un momento di Optimum ascendente quindi mentre nel primo caso si può fare un discorso di struttura climatica in progresso nel senso naturalmente del raffreddamento nel secondo caso no si può fare un discorso di situazione di eccezionalità climatica negli anni gli anni 50 60 sono anni in cui l'ottimum climatico si afferma anche con l'avvio di situazioni che poi diventano sempre più tragiche i primi avvisagli dei famosi buchi dell'ozono si notano allora eccetera eccetera però siamo in un momento di riscaldamento dell'ambiente questo non significa nulla naturalmente dato che la alluvione del 1966 è il risultato di qualcosa di inspiegabile e imprevedibile imprevedibile è ovvio che l'imprevedibilità di oggi è una imprevedibilità diversa da quella di ieri o di alcuni secoli fa fino a qualche decennio fa in fondo il clima poteva cambiare in maniera repentina e i segni di un cambiamento di clima si erano in grado di osservarli soltanto pochi giorni in qualche caso poche ore prima adesso il discorso evidentemente cambia tutti i tornados che arrivano tutti gli aerogani che arrivano sono regolarmente monitorati questo non è successo evidentemente nel 1133 e questo è ovvio ma nemmeno nel 1966 cosa succede nel 33? beh i giorni sono sempre quelli sono i giorni dell'autunno che comincia un po' a cedere e la buona stagione se ne va e si creano correnti soprattutto d'origine atlantica e determinano eh possono determinare anche situazioni di bufera eh continuativa di bufera ostinata che dura a lungo che dura qualche giorno nel caso del 1133 le nostre ricerche documentarie e i pareri dei cronisti che noi abbiamo raccolto un po' in tutta Europa che come sapete non sono moltissimi per noi cronista maggiore della alluvione del 33 è un non cronista è è un è un analista eh sì è un cronista nel senso tecnico del termine non nel senso giornalistico del termine è una voce che testimonia di una cosa di cui è stato testimone oculare ma ne testimonia un pochino di anni più tardi non molti tutto sommato e quindi evidentemente noi ce ne possiamo fidare fino a un certo punto il testo di Giovanni Villani di cui mi sono portato uno stralcio se avanza tempo ve ne leggerò qualche riga è un testo che descrive in maniera estremamente vivace l'alluvione ma ovviamente se noi vogliamo aspettare una precisione di tipo statistico restiamo delusi la funzione di questo tipo di fonte non è quella Villani non vuol dare una serie di informazioni obiettive è convinto che le informazioni obiettive di per sé non servirebbero a nulla vuol dare vuol restituire il clima di un momento vuol ricostruire le paure le apprensioni e anche le speranze dei fiorentini in quel momento e quindi abbiamo un quadro estremamente mosso un quadro drammatico un quadro che ovviamente ha delle fonti e dei modelli e il modello uno dei modelli il modello principe è sicuramente un modello biblico le fiaghe d'Egitto da un lato e ancora prima le fiaghe d'Egitto il diluvio universale dall'altro fino a che punto questo corto circuito fra reminiscenze letterarie anche dovute perché sono attinte dalla sacra scruttura e realismo cronistico vanno d'accordo o entrano in conflitto e su questo stiamo ancora discutendo nella pratica comunque si può dire forse questo quello che colpisce nella Firenze nel 1133 non è l'abbondanza dei guasti suscitati dall'alluvione quella del 1966 è stata molto più micidiale perché evidentemente ha toccato anzi ha invaso in pieno una città che aveva delle strutture moderne capillari e delicatissime la Firenze del 1300 la Firenze del XIV secolo anche se la Manhattan del tempo come qualcuno ha detto non ha niente di tutto questo a un livello vero e proprio è una città in gran parte di legno oltre che di pietra è una città che si sta costruendo in quel momento e dove quindi l'alluvione costituisce un vero e proprio iato perché distrugge cose che stavano erano in corso d'opera erano in fieri questa è forse una chiave per capire quanto poi hanno lavorato intensamente e con successo tutti quelli che hanno parlato dell'alluvione come di un giudizio di Dio riprendendo fra l'altro proprio il tema della morte per acqua che è evidentemente un tema chiave del Genesi e del libro di Tobia via discorrendo quello che forse però ordinariamente sfugge quando si parla dell'alluvione del 1333 a Firenze e non sfugge a tutti e non sfugge del tutto e non sfugge quando si confronta quell'episodio con quello del 1966 è che in quel caso l'alluvione colpisce una città come Firenze che è nel vivo di un'attività economica in cui l'Arno è un protagonista e allora sì siamo costretti un pochino a dire qualche cosa su questo protagonismo dell'Arno l'Arno come sapete nasce dall'Appennino dal Monte Falterona dall'Appennino pochi a poca distanza dal Monte Terminillo quindi all'Appennino centrale arriva a Firenze dopo una grande ansa verso sud prima sud-ovest e poi si risale a nord-ovest e si prende grosso modo all'altezza della Toscana centrale diciamo tra Figline e Pontassieve se vogliamo essere topograficamente precisi anzi c'è un luogo che indica per i fiorentini il luogo nel quale finalmente l'Arno decide di mettere la testa a partito e dopo aver vagato un po' senza meta per tutta la Toscana rivolgendosi a sud poi risalendo il nord sempre evidentemente restando sulla linea est-ovest perché siamo nella spartiacque appenninico a occidente quindi diversamente non potrebbe apparire però l'Arno dà l'impressione di non avere molta voglia di arrivare al Tirreno finché arrivato a una a una gola abbastanza profonda che fra l'altro l'ingresso nel sistema collinare che circonda Firenze nel catino collinare come dicono i topografi arrivato quindi nel luogo dove c'è un antico taglio probabilmente romano nella viva roccia per permettere alla alle acque di defluire che l'incisa e lì i fiorentini avevano costruito anche un grande castello che poi è passato a proprietà gentilizia e adesso non si sa che fine farà arrivato all'incisa il il fiume finalmente prende un andamento diciamo sostanzialmente deciso e coerente un andamento est-ovest che si fermerà soltanto alla foce alla a porto pisano però per quanto riguarda Firenze noi vediamo che l'anno è incapsulato in due da due sorte di canyon di gole che è una appunto la gola dell'incisa e un'altra è la gola di signa erano i luoghi in cui l'antico Arno vedeva in qualche modo fermarsi e modificarsi la navigazione il porto di signa immediatamente a ovest di Firenze ancora oggi se ne vedono i resti che sono in parte impaludati in parte ridotti a luoghi per case di civile abitazione il porto di signa immediatamente a ovest di Firenze era il porto dove potevano arrivare delle navi di medio pescaggio che servivano per prendere le merci fiorentine fondamentalmente le pezze di lana portarle al porto pisano da dove poi queste merci avrebbero preso il cammino che dovevano prendere insomma la terra santa sì ma soprattutto il magreb la spagna quindi dalla foce fino a quasi le mura ovest di Firenze l'Arno è navigabile con mezzi che sono lato senso gli stessi mezzi con cui si navigano il Mediterraneo poi c'è un tratto che i fiorentini proprio alla fine del tredicesimo secolo nel momento in cui sono convinti di avere nelle mani la più grande e la più ricca città della cristianità occidentale e vogliono farla crescere sempre di più c'è un tratto dicevo corrispondente grosso modo al perimetro cittadino delle ultime mura un tratto in cui i fiorentini hanno voluto assicurarsi che il la vita idrica dell'Arno non subisse variazioni nel corso del nel corso dell'anno perché l'anno è un è un fiume a regime torrentizio che si secca quasi completamente d'estate si gonfia molto fra l'autunno e l'inizio dell'inverno poi naturalmente torna in secca viceversa i fiorentini non tanto per il loro approvvigionamento idrico che è sempre stata una tragedia a Firenze c'è qualche nappa freatica con acqua piuttosto piuttosto cattiva acqua molto piena di soprattutto di calcio quindi acqua dura è un'acqua che si ritrova in molte altre aree della Toscana soprattutto al sud l'acqua dell'Elsa per esempio è un'acqua fluente di sinistra dell'Arno l'acqua dell'Elsa che esce naturalmente si butta nell'Arno vicino alla città di Colle Val d'Elsa e quindi è la è il fiume che percorre un tratto della Francigena e che accompagna i pellegrini della Francigena l'Elsa è famosa per un'acqua durissima quasi imbevibile nonostante tentativi di depurazione che si fanno eccetera l'Arno gli tiene dietro di poco ma naturalmente la qualità delle acque dell'Arno è molto migliorata negli ultimi decenni ed è un bene che sia così perché insomma noi ci figuriamo sempre in questa sorta di grossolano l'evoluzionismo che ci sta un po' sotto la pelle noi ci figuriamo sempre un domani peggiore dell'oggi e un oggi peggiore del domani ma non è detto per esempio l'acqua dell'Arno che oggi è sconsigliabile bere nonostante i depuratori l'acqua dell'Arno era molto peggio nel secolo quattordicesimo e in fondo qualche volta la si beveva è un'acqua che è piena di spurghi industriali è un'acqua che evidentemente è piena di spurghi organici a Firenze ci sono le fogne e sono fogne romane che funzionano abbastanza in qualche caso scoperte ma in molti casi coperte e in più ci sono pesanti residui di lavorazione di lavorazione eh manifatturiera se non vogliamo usare il termine industriale che sarebbe decisamente fuori luogo quindi i fiorentini fra verso la fine del duecento quando hanno deciso che ormai la loro città era una delle prime dell'Europa hanno cominciato ad abbellirla con i monumenti illustri che tutti conosciamo insomma dalla cattedrale a Santa Croce al campanile della cattedrale al palazzo dei signori eccetera tutte cose fondate o realizzate in quell'ambito in quello scorcio fra la fine del duecento e primi del trecento e i fiorentini ci sono posti anche il problema dell'Arno Arno difficile da navigare ma questo non è un problema urbano ci sono due porti uno è a ovest per chi conosce Firenze cioè penso la totalità dei presenti grosso modo corrispondente al tratto tra Ponte San Nicolò e Piazza Mentana cioè la zona dell'area di Piazza Beccaria eccetera dove c'è una sorta di slargamento lacustre che si chiama il gorgo che costeggiava le mura era un luogo un po' malfamato luogo molto poco salubre infatti si chiamava l'inferno ed è il luogo dove naturalmente i frati minori francescani fondano la loro la loro grande chiesa la chiesa di Santa Croce quando noi ci ricordiamo perché ce lo ricordiamo tutti la tragedia di Santa Croce allagata nel 1966 e l'epica del recupero della croce di Cimabue che poi non fu l'unica a essere danneggiata ci furono gli affreschi di Bernardo Datti e via discorrendo la croce di Cimabue come ricorderete diventò il simbolo dell'alluvione il simbolo di questa grande città d'arte colpita ebbene in realtà noi sappiamo bene che gli ordini mendicanti nel primo duecento quando decidono di insediarsi nelle città ed è una decisione obbligata per un verso ma anche un po' sofferta per un altro si impiantano proprio nei luoghi nevralgici della città non scelgono il centro cittadino abitato dalle case torri dell'aristocrazia scelgono le periferie maleolenti e qualche volta anche malvissute per così dire i luoghi di malaffare e i luoghi della sofferenza della sofferenza dei subalterni ci sono due punti che sono proprio agli estremi limiti del tratto urbano di Firenze a Firenze l'anno scorre come ovvio come sapete da est verso ovest non divide la città in due perché la città romana è fondata decisamente a nord molto vicino all'Arno ma decisamente a nord dell'Arno la città non è a cavallo del fiume fosse a cavallo del fiume sarebbe stato necessario farci molti ponti mentre invece i romani di ponti ne fanno soltanto uno che poi di legno poi diventa di pietra e che sarà il ponte vecchio ed è il punto in cui praticamente si ha praticamente l'accesso alla città ma l'Arno scorre fuori successivamente sarà soltanto alla fine del duecento che si deciderà di inclobare anche tutto l'Oltrarno la riva sinistra esattamente come a Parigi la riva sinistra che è quella più malfamata che è quella abitata anche da un ceto povero di che a Firenze è occupato quando è occupato nei lavori più bassi e meno specializzati della manifattura laniera quindi i lavori di preparazione del fiocco lo spurgo iniziale il lavaggio eccetera tutti quei lavori che ordinariamente si fanno in casa sapete evidentemente non c'è il factory system no? non si va in fabbrica a lavorare le case sono dei singoli lavoratori sono attrezzate le donne le donne filano spesso filano mentre allattano anche i bambini e fanno il duplice lavoro salariato di filatrice e di nutrice di balia poi il filato viene raccolto viene portato alla tessitura e dopo la tessitura naturalmente c'è il periodo e c'è la fase anche della della follatura e qui entra in gioco questa questi oggetti misteriosi che da una parola longobarda valk che dovrebbe voler dire battere e battere ritmicamente prendono il nome di gualchiere sono le vecchie folloniche romane però i fiorentini le chiamano gualchiere le gualchiere sono dei mulini funzionano esattamente come mulini funzionano ad energia idrica trasmessa attraverso un sistema di ingranaggi che fa azionare i martelli delle gualchiere stesse sono come i mulini delle fonditure dei fonditori oppure come i mulini ad acqua a Firenze ce ne sono molti dei mulini ad acqua e già questo fa un quadro di una fiume abbastanza infame povero d'acqua quasi sempre quando ce n'è ce n'è troppa però nello stesso tempo soggetto a un super lavoro intanto intorno al corso del fiume si crea un reticolo di canali ora non voglio dire che Firenze fosse come Bologna tanto meno come Milano e tanto benissimo come Venezia però i canali servivano i canali più che altro non erano canali navigabili nemmeno con delle barchette però erano canali che portavano energia idrica a certe macchine sono macchine che in generale sono piccoli mulini i mulini più grandi c'erano ed erano tutti ancorati rigorosamente quindi erano mulini natanti avete presente il famoso mulino del Po di Riccardo Bacchelli no? erano mulini natanti ed erano appoggiati sulla corrente dell'Arno però questa corrente doveva essere continua e doveva avere un livello sempre uguale a se stesso e quindi si creano degli scolmatori le cosiddette pescaie se ne fanno due abbastanza vicine ai due porti fiorentini a monte la pescaia questo è il termine tecnico del fiorentino la piccola cascata si chiama la pescaia la pescaia di San Nicolò e a ovest la pescaia di Santa Rosa la pescaia di San Nicolò è abbastanza vicina al grande porto della Croce al Gorgo e la pescaia invece di Santa Rosa più a ovest è vicina all'altro grande porto che è il porto di Ogni Santi dove c'è non solo la chiesa francescana di Ogni Santi ma la chiesa francescana di Ogni Santi ha sostituito un complesso di chiesa e di casupole in cui lavoravano questa specie di misteriosa per la verità non è anche misteriosa anzi è studiatissima perché ci sono molti documenti però a livello di opinione pubblica si continua a pensare sia misteriosa il misterioso ordine degli umiliati che sono laici che vivono però secondo una regola e che producono e producono fondamentalmente panni di lana che passano attraverso le varie fasi di lavorazione la filatura la tessitura quindi la gualcatura poi la tintoria in qualche caso la tintoria viene prima delle altre funzioni in qualche caso dopo questo è un discorso complicatissimo non lo faremo adesso non ha importanza tanto è molto studiato per quanto ci riguarda il fiume quindi entra a contatto con questo processo di produzione a due livelli fondamentali primo livello la necessità della forza idrica per gualcare i panni cioè per dare ai panni la necessaria consistenza stando attenti a che la consistenza non diventi eccessiva perché altrimenti i panni si infeltriscono e allora sì i mongoli usano panno infeltrito ma i toscani e gli occidentali no il panno infeltrito bisogna buttarlo via invece il panno qualcato correttamente lo si passa poi al lavoro dei tintori i tintori hanno per lavorare hanno bisogno di molta acqua questo lo sappiamo anche le qualchiere hanno bisogno di acqua perché hanno bisogno che l'acqua ci passi attraverso gli ingranaggi e muova questo sistema di martelli eh guidato da ruote praticamente un meccanismo estremamente semplice di per sé le qualchiere sono mobili come i murini e e sono anche abbastanza vicini ai porti oltre a due porti che abbiamo detto quello praticamente vicino all'attuale piazza ventana a est e quello di ogni santi dove lavoravano gli umiliati poi c'era l'altro grande porto adiacente subito dopo il cosiddetto pignone che poi è diventato una zona industriale anche nella Firenze moderna il pignone era cosiddetto da un monumento molto simile a quello che c'era nel cortile di San Pietro a Roma che era un monumento sardo romano una grande una sorta di monolito foggiato a forma di pigna che era un ornamento fluviale del traffico fluviale romano che nel Medioevo serviva proprio come oggetto d'ancoraggio quindi voi vi dovete immaginare un fiume assolutamente sporchissimo fra l'altro i defriti anche organici eccetera finiscono nelle fogne che a volte sono a cielo aperto e a volte no ma comunque tutto finisce in arno i defriti fanno sì che il livello del fiume il livello del greto del fiume sia molto più alto di oggi e quindi in teoria molto più pericoloso per le alluvioni perché non lo si draga questo fiume l'acqua è assolutamente lurida da dove lo chansonnier degli anni venti mi pare del novecento avesse tratto l'idea dell'arno d'argento dove si specchia il firmamento io non l'ho mai capito o meglio lo posso capire perché l'arno è stato soggetto in età moderna a fortissime bonifiche però da dove l'apogianni avesse tirato fuori il sonno l'arno balsamo il sogno l'arno balsamo fino questo si capisce meglio c'è questa bellissima poesia il sonetto onirico amore o chero mia donna indimino indominio quindi l'arno balsamo fino le mura di Firenze inargentate le rughe di cristallo lastricate ecco rovesciate queste immagini onirica è una città fatata e avete la Firenze del trecento dove l'arno è una cloaca maledetta fra l'altro nel processo di lavorazione della della stoffe che poi dava luogo anche a una modifica nella nel panorama della città perché la città di Firenze è una città piena di tiratoi non sempre non non abantico ma fra due trecento si sono contati forse con una certa eccessività ma non troppo una cinquantina di tiratoi ora il tiratoio è una grande loggia coperta una lunga loggia coperta può arrivare a 50 60 metri dove si mettono i panni che poi si arrotoleranno per la vendita e si mettono ad asciugare dopo i vari lavori di spurgo di di confezione in presenza d'acqua poi ripassano in generale dal tintore gli essiccatoi gli essiccatoi cioè i tiratoi che sono gli essiccatori sono parte del panorama praticamente questa città è veramente una città industriale è veramente una città che ricorda mutatis mutandis la Detroit degli anni 30 il panorama keynesiano degli anni 30 perché vi dovete immaginare una città in cui praticamente quasi tutti sono coinvolti in un modo o nell'altro magari indirettamente perché ne sono i finanziatori e i gestori e loro fanno vita aristocrafica e quasi feudale però traggono beneficio da questo lavoro e gli altri ci vivono letteralmente immersi per il processo di organizzazione industriale preferite fortuna che non c'è il professor Poni a sentire una cosa del genere sarebbe sussultato a sentire usare da un barbaro della storia economica il termine industriale per il 300 nel processo manifatturiero c'entra moltissimo l'ammoniaca e l'ammoniaca la si trae dai detriti dalle deiezioni organiche animali e anche umane quindi c'erano grandi botti nella Firenze del 200 dove i buoni fiorentini venivano in venivano pregati venivano indotti a liberarsi dei liquidi eccessivi nei modi fisiologici noti perché poi il liquame serviva e serviva alla costruzione di questo circuito industriale quindi una città veramente maledettamente fetida e una città che traeva la sua ricchezza da questo città in cui si viveva abituati a questo clima ma una città anche dove quando si poteva si scappava il sonetto di Lapo Gianni che si cita sempre per far vedere come il Medioevo avesse vivesse immerso in questo sogno onirico l'arno di balsamo le mura d'argento le si le mura d'argento le strade lastricate di cristallo le strade di Firenze non erano nemmeno lastricate soprattutto abbastanza luide poi almeno le strade adiacenti il palazzo dei signori e la e la cattedrale dell'astica non soltanto nel secento questa è la Firenze che viene colta da un'alluvione d'alluvioni se ne erano state anche prima questa è particolarmente è particolarmente tragica ora Firenze è naturalmente protetta dalle alluvioni perché perché a est dell'agglomerato cittadino e immediatamente a ovest ci sono due aree che rispondono più o meno per chi conosce la topografia fiorentina all'area tra Firenze e Bagno a Ripoli che non a caso è un'area molto paludosa anche se ora è stata bonificata e urbanizzata l'area tra Firenze e Bagno a Ripoli a est e l'area tra Firenze e Signa a ovest dove ci sono due veri e propri grandi laghi del resto tutto tutto il medio valdanno tutta la munca fiorentina almeno mi pare fino al presto cene era un lago come era un lago la diecente Mugello eccetera la Toscana è rimasta fino alle bonifiche leopoldine una sorta di Finlandia dove si poteva praticamente navigare più o meno tranquillamente dal Trasimeno fino alla Maremma a forza di chiatte eccetera dove c'era una vita quindi di caccia e pesca rigogliosissima e un'altrettanto rigogliosa malaria ci sono voluti secoli per liberarsi di tutto questo ma se voi ancora leggete avete un'opera ottocentesca che nella mia generazione era ancora un'opera e i Toscani dovevano leggere obbligatoriamente che erano le veglie di Neri di questo divertente scrittore folclorista che era Renato Fucini eh Fucini descrive una una Toscana che era una vera e propria Finlandia dove praticamente le città di media di medio livello eh pensate alla Val di Nievole che ancora oggi conserva nella sua toponomastica il ricordo di quando era un grande lago praticamente che dalla piana di Peretola dove oggi c'è l'aeroporto di Firenze arrivava fin quasi all'ambile all'ambile città di Pisa ed era un un acquitrino continuo dove le le strade erano dei pericolanti dei sempre pericolanti terrapieni eh che si dovevano ricostituire continuamente ogni ogni stagione dove si faceva molto prima andare a girare con quello che i fiorentini chiamavano il navicello che poi è una zattera dopodiché naturalmente a un certo punto nel settecento interviene la sapienza illuministica del granduca Leopoldo mentre sua madre Maria Teresa aveva provveduto di canale adeguatamente di canale la pianura padana ma lì il discorso era più facile e le tradizioni erano più ordinate e Leopoldo fa lo stesso con la Toscana e la Toscana cambia con assolutamente aspetto l'alluvione si l'alluvione infierisce su queste strutture manifatturiere come dire caratterizzate da un'estrema fuga i fiorentini producono in maniera impressionante i dati che ci abbiamo sono affatto sicuri ci attacchiamo ai dati del solito villani sperando non ci racconti delle balle villani era letto dai suoi contemporanei quindi certamente villani non è uno statistico comunque i dati che dà sono interessanti 75 mila pezze pezze di lana all'anno esportate e che praticamente è l'ottanta per cento della produzione italiana può darsi che in questo che in tutto questo ci sia una forza una forte esagerazione però naturalmente una città di centomila abitanti era direttamente o indirettamente ventiquattro ore su ventiquattro perché sono alcuni di questi lavori non hanno mai sosta soprattutto il lavoro della della filatrice era impegnato in questa operazione si era cominciato da tempo a fare dei grandi edifici alla fine del 200 la Firenze megalomane si mette in moto trasformazione della piccola santa reparata nella grande santa maria del fiore palazzo dei signori cioè della signoria del palazzo vecchio come diciamo noi palazzo del podestà cioè il bargello come diciamo noi i soliti conventi che si mettano a guardia delle periferie o delle pre periferie cittadine quindi evidentemente i francescani si mettono a Santa Croce in una zona molto pericolosa e malfamata e quindi non a caso anche idrograficamente compromessa e Santa Croce sarà colpita fortissimamente dall'alluvione del 1133 però l'alluvione del 1333 a Santa Croce non fa quei danni che fa invece l'alluvione del 1966 perché nel frattempo Santa Croce non è più un grande complesso conventuale e basta ma è diventato un museo è diventato una sorta di altare della patria con le urne dei forti c'è la cappella la cappella dei pazzi che è evidentemente uno dei grandi capolavori del 400 e quindi questo luogo è diventato un luogo che sarebbe dovuto essere degno della massima preservazione invece non ci si è pensato quando nella metà degli anni 30 si fece l'edificio della biblioteca nazionale e si aveva già un'esperienza notevole della zona di quell'area perché pochi anni prima eh si era fatta eh la grande opera che adesso non c'è più è sostituita purtroppo perché non è un gran che l'edificio nuovo è sostituita dal nuovo archivio di stato ma i fiorentini abbastanza vecchi compreso il sottoscritto si ricordano che c'era l'edificio che si chiamava col suo nome la caserma della gioventù italiana del littorio che era una un complesso di edifici amministrativi del partito di caserma per avanguardisti di teatro cinema biblioteca piscina sale per congresso era veramente una grande opera e quando si è scassato il sottosuolo del fiorentino per gettare le fondamenta immense di questa grande opera che sorgeva subito a nord fra l'altro di una caserma ottocentesca la caserma baldissera di cui si sapeva che era condannata a essere distrutta perché gli architetti di Umberto I avevano sballato la costruzione non avevano tenuto conto dell'umidità e della fiabilità del terreno che era un vero e proprio lago sotterraneo per la costruzione della caserma invece si fece un altro lavoro un lavoro destinato a resistere tanto è vero che poi ci hanno appoggiato sopra l'archivio che nonostante sia un'opera che invece è stata molto discussa da quel punto di vista è idrograficamente abbastanza sicuro perché si appoggia su un risanamento precedente nella biblioteca nazionale che per chi conosce Firenze sa che è a poche decine di metri dall'impianto di piazza Beccaria ci si trovò nella stessa situazione si operò un lavoro di drenaggio in profondità ciò nonostante ma è un lavoro di drenaggio faraonico si parla di decine di metri di pareti di cemento armato ciò nonostante nel 1966 noi ci siamo trovati l'acqua negli negli scantinati della biblioteca nazionale e attenzione non è l'acqua che venendo da sopra ha passato le spallette ed è entrata alla porta c'è anche quella e in un primo tempo siamo stati siamo stati tratti in inganno ci siamo accorti successivamente e evidentemente a quel punto se ne è accorto il genio civile a occhio non si vedeva nulla era la stessa cloaca di fango detriti organici e tutto il resto e ci siamo accorti che l'inondazione di sopra che era arrivata dall'Arno si era incontrata con un'inondazione diversa che invece veniva al sottosuolo e con risultati che poi per sanarli sono voluti veramente anni e uno sforzo economico che ancora ancora è lungi dall'essere dall'essere esaurito fra l'altro nel 1333 non questa alluvione dell'Arno non è così tragica colpisce strutture in fieri e anzi contribuisce quasi quasi a mettere in guardia i cittadini è sintomatico che nel 1333 c'è l'alluvione nel 1334 Arnolfo di Cambio fonda getta le fondamenta del campanile di Giotto e le fondamenta del campanile detto di Giotto e sono eh ho detto Arnolfo di Cambio domenica di Giotto e sono molto profonde anche loro la natura di Firenze è una natura alluvionale c'è uno zoccolo di pietra grosso modo che va proprio dall'area della cattedrale all'area del Palazzo Vecchio dove si può costruire su viva roccia il resto però è terreno alluvionale quindi naturalmente la situazione idrologica è molto pericolosa tutto questo nel 1333 si sente meno c'è tutta una organizzazione mitica sulla sull'alluvione del 1333 intanto quando c'è il 3 il 13 eccetera naturalmente si scatenano le eh si scatena l'universo l'universo profetico cabalistico quindi la fine del mondo i mille non più mille gli anni di Gesù e via discorrendo villani stesso si fa portavoce di queste cose villani non ha l'area di uno e che poi ne è molto impressionato però riferisce naturalmente tutta una serie di profezie di visioni parla del monaco arrampicato sul campanile della dell'abbazia di Vallombrosa che è sensibilmente a est di Firenze a nord est di Firenze che si affaccia dalla cella campanaria e vede delle nubi nere che vanno verso Firenze e queste nubi nere naturalmente questo chi ha un po' di dimestichezza di croniche medievali lo sa se l'aspetta sa dove il cronista va a parare in realtà sono diavoli che cavalcano nel cielo e il monaco chiede a uno di loro ma cosa fate e lui risponde andiamo a Firenze perché il Signore la vuol punire per i suoi peccati e via discorrendo fra queste fiabe nel senso antropologico del termine la più interessante civicamente è quella del Marte la statua probabilmente era una statua di un re barbaro forse di Totila non si sa bene ma che nell'immaginario fiorentino era la statua di Marte che ai tempi in cui il Battistero era un tempio pagano consacrato a Marte per parentesi tutte le polemiche sulla sull'adattazione del Battistero sono ancora in corso comunque non si riesce a mandarlo più più in là più in più all'antico del quinto secolo dopo Cristo che naturalmente è già molto quindi che fosse stato un tempio di Marte se lo si può escludere però per i fiorentini questa era una sicura una sicura una storia sicura e la statua di Marte quando il tempio è diventato un Battistero non è stata distrutta perché è un protettore di Firenze demonico finché si vuole però se ne ha paura lo si mette a capo di ponte a nord del Ponte Vecchio in un certo senso ancora una volta con una funzione tutelare di Firenze magari con l'occulta speranza che arrivi una piena e se lo porti via così i fiorentini non sono stati loro e in effetti arriva la piena e se la porta via quando la piena porta via la statua di Marte i fiorentini c'erano molto tragicamente affezionati alla statua di Marte storicamente risponde pensiamo a verità la pagina di Dino Compagni in cui si racconta del fallito matrimonio fra un Donati e una un Bon del Monti e una Donati o meglio fra un Bon del Monti e una della casa degli Amidei che poi sarà una grande famiglia di Bellina mentre i Bon del Monti saranno Guelfi nel 1216 cioè l'anno successivo all'incoronazione dell'imperatore Federico questo è importante il Bon del Monti cambia idea l'Amidei non gli piace trova una ragazza di casa Donati che gli piace di più e si sposano è evidente che le cose non sono andate così si tratta molto probabilmente di un'alleanza familiare tra i Bon del Monti e gli Amidei che è saltata è stata sostituita da una fra i Bon del Monti e i Donati gli Amidei non hanno buttato giù l'offesa e tutto è finito è finito ovviamente a coltellate e da allora dice Compagni è cominciata la divisione nelle due maledette parti dei Guelfi e dei Ghibellini a Firenze esattamente guarda caso un anno dopo che Federico II è stato incoronato imperatore evidentemente c'è molto di mito in tutto questo ma è interessante e forse è vero che il Bon del Monti sia stato ucciso dagli Amidei dai Lamberti dagli Uberti da tutti le famiglie i capi famiglia e poi diventeranno della parte Ghibellina opposta ai Bon del Monti che saranno i capi della parte Guelfa è stato ucciso proprio ai piedi della statua di Marte una specie di sacrificio non di fondazione ma di disfacimento della città una specie di augurio di che la città finisca nelle lotte nelle lotte intestine quindi c'è questo elemento che lega Firenze all'anno che la lega in una maniera tragica drammatica avrei voluto ma il tempo ormai penso sia largamente passato anzi lo è avrei voluto leggervi qualche cosa da Villani ma è una fonte del resto è di facile consultazione quello che posso dire concludendo in parte dicendo cose che tutti sanno e in parte attingendo anche la mia personale memoria è la seguente cosa partiamo dalla vicenda personale non perché sia mia vicenda personale ma perché è paradigmatica in un certo senso di una qualcosa di inatteso che a Firenze per tutto ottobre nel 1966 sia piovuto esattamente come nel 1333 ma esattamente anche come molti altri anni ora noi per il momento siamo in una l'anno fortunato ma ordinariamente come sapete verso la fine d'ottobre e i primi novembre piove poi se si ferma per l'estate di San Martino poi ricomincia vabbè la mia personale esperienza non c'è perché io mi trovavo ufficiale di aeronautica a distanza a Ferrara e oltretutto ero anche in licenza per in licenza di viaggio ai nozze sono tornato la notte del 3 con tutte le intenzioni di visitare i miei genitori che stavano a oltrarno io abitavo un po' fuori dalla stazione un po' dalle parti di quella che a Firenze si chiama la fortezza da basso sono due grandi fortezze medisce che guardano Firenze con le bocche dei cannoni rivolosamente rivolte non verso l'esterno ma verso l'interno sono fortezze si ma fatte conto i fiorentini evidentemente e sono la fortezza del Belvedere di San Giorgio quella in alto e la cosiddetta fortezza da basso nell'area dove poi è stata fatta anche la stazione beh da noi non era successo granché nonostante vicino a noi ci passasse un fiume di una qualche importanza un torrente un affluente di destra dell'erno che è il Mugnone che è stato deviato più volte perché più volte ha fatto da confine nella città è stato spostato sempre più verso l'est era gonfio era quasi uscito ma il terreno era in pendenza aveva fatto qualche puzza d'acqua qua e l'anno eravamo lontanissimi dal pensare io la mattina del quarto sono stato avvertito da mio padre che era impossibile passare passare l'arno perché era successo il finimondo naturalmente a quel punto mi sono messo l'uniforme perché ho pensato che con l'uniforme mi sarebbe stato più facile infatti così è avvenuto passare che non in abiti civili è evidente che con l'uniforme ho potuto mi sono potuto servire dei comuni dei carabinieri dicendo al collega mi fa il piacere portarmi all'altra parte e poi anch'io sono andato a fare un pochino per pochi giorni in cui mi hanno lasciato a Firenze sono andato a fare l'angelo del fango come il presidente Bersani e molti altri ma il dato personale è quasi comico perché sono dovuto rientrare al reparto quattro giorni dopo perché nel frattempo l'alluvione era arrivata anche nel Polesine e noi siamo stati comandati a Codigoro e in tutta l'area di Codigoro abbiamo trovato una situazione molto più drammatica che non a Firenze da gente che stava da alcuni giorni letteralmente accampata sui tetti e che era inferocita perché non arrivavano soccorsi e noi eravamo un piccolo gruppo di avieri e di carabinieri misti che casualmente eravamo quasi tutti toscani e allora quando io che ero il più alto in grado ho detto al mio sergente prendi il megafono e di alla popolazione e si riuniscano nella tal piazza che era rimasta quasi asciutta che gli portiamo i primi soccorsi e lui lo ha detto con pesantissimo accento fiorentino e dalle case sono piovute fegole addosso a noi militari che per un certo momento i ragazzi siccome erano armati perché in zona pericolosa si deve andare in armi hanno cominciato a chiedere ma che facciamo rispondiamo al fuoco dico ma siete matti rispondete alle fegole sparando col mitra però erano impressionati è stato un brutto quarto d'ora sapete la ragione del brutto quarto d'ora il crocifisso di Cimabue questi poveracci di Codigoro da tre giorni erano senza acqua senza viveri o quasi gli fornivano un po' fra gommoni e elicotteri ma in maniera molto molto aleatoria però beh insomma qualche radio e qualche tele quasi tutte le radio e le televisioni funzionavano i circuiti elettrici erano stati toccati si danneggiati ma non eliminati e questi sentivano parlare continuamente della tragedia del crocifisso di Cimabue era finito sott'acqua ed erano visibilmente scossi dal fatto che di loro non si dicesse nulla da qui naturalmente l'animosità contro coloro che parlavano in toscano al di là di quello fu molto fu molto drammatica l'alluvione della quale si può vedere anche qualche fotografia di Firenze si proviamo scorriamo così in cauda non in cauda venenum ma in cauda in cauda acqua non era acqua d'acqua ne abbiamo visto poco abbiamo visto rifiuti di ogni genere abbiamo visto nafta moltissima io personalmente ho visto letteralmente tratti d'arno che bruciavano quindi il livello del carburante perduto è stato pesantissimo la l'ingresso dell'acqua in tutti i sotterranei e in tutti i sottopassaggi possibili e immaginabili in una città come Firenze che ne ha molti sono andati allagati e siccome la prima ondata è avvenuta io non c'ero relata refero ma sono relata molto noti è avvenuta veramente in maniera inattesa in maniera molto abnorme e allora molti sono finiti letteralmente sott'acqua prigionieri dei sottopassaggi per esempio nel sottopassaggio della stazione nelle ore della notte molto meno di quanto non succeda oggi però ci stazionavano dei dei come diciamo pudicamente oggi della gente senza casa ed è anche difficile a questo punto è stato anche difficile non fare il conto fisico dei morti e quelli si vede perché sono lì e basta contarli ma il conto anagrafico dei morti perché molti di loro non sono stati identificati tecnicamente non avevano documenti indosso non erano conosciuti da nessuno l'acqua non è il fuoco l'acqua non stravolge un cadavere fino a renderlo irriconoscibile almeno nelle prime ore però è avvenuto anche questo fra l'altro come sono avvenuti i fenomeni poi di intossicazione anche di lungo periodo perché insomma le tubature dell'acquedotto sono state inquinate e via discorrendo il problema è che è quello appunto del regime torrentizio dell'Arno i fiorentini del 300 sapendo perfettamente questo problema all'inizio del secolo hanno fatto appunto due sbarramenti due pescaie evidentemente che permettevano all'acqua di defluire nel senso naturale che è un senso da est verso ovest cioè dall'Appennino verso Pisa però la città era tenuta a un livello costante a un livello idrico costante del fiume appunto da queste due piccole dighe che erano le pescaie che nei momenti naturalmente di maggiore affluenza si possono si aprono le chiuse e nei momenti di minore affluenza le chiuse si tengono abbassate abbassate e quindi il risultato è che nel tratto che interessava la Firenze medievale e che interessa ancora il centro della Firenze attuale cioè da Ponte San Nicolò che è quello più a est fino alla Ponte alla Vittoria che è quello più a ovest vicino al parco delle Cascine praticamente il livello idrico era costante il problema semmai che i Fiorentini hanno notato e gli è stato di grande danno era questo l'alluvione gli ha spazzato via tutte le installazioni industriali chiedo scusa e no al professor Pone le installazioni manifatturiere perché perché erano i mulini erano gualchiere erano cioè delle zattere natanti ed erano natanti fatte proprio per questo eh quando c'era l'alluvione si mollava tutto si mandava tutto lungo il corso della corrente e poi si rifacevano c'era abbastanza materiale abbastanza manodopera a basso costo in fondo le installazioni erano molto semplici in quel caso però i mulini erano almeno una ventina c'era una quantità di gualchiere sui due lati perché era una grande città industriale ed era una grande città industriale la cui forza motrice era l'acqua e quindi l'Arno era veramente gremito di queste installazioni sì che erano posticce e provvisorie quanto volete strutturalmente ma che su un piano della vita quotidiana invece c'erano ormai erano stabilissime e allora passata l'alluvione si è pensato di riorganizzare tutto e si è fatto un lavoro che non è ancora stato molto ben studiato c'è un collega un bravissimo collega di Firenze il professor Franceschi che per la verità non insegna a Firenze insegna a Siena la sezione staccata dell'Università di Siena che è ad Arezzo che sta studiando queste cose perché adesso ci sono degli immobili che sono unici al mondo oimè che sono delle vecchie installazioni industriali o manifatturiere che sono fra le più antiche installazioni industriali fisse in muratura di tutto direi di tutta l'Europa e sono una serie di gualchiere che sono anche alcune delle quali sono anche parzialmente state restaurate e visitabili ma purtroppo c'è una situazione di proprietà di servitù di contenzioso eccetera che le rende difficili da essere restaurate e da essere anche riutilizzate sono si presentano come delle vere e proprie fortezze merlate perché fra l'altro erano anche adibite a difesa militare perché essendo installazioni i manifatturiere si temevano colpi colpi di mano e sono tutte le gualchiere che stanno nel tratto del fiume dell'Arno tra la periferia est di Firenze e l'insediamento di Pontassiere noto perché fino a pochi giorni fa era residenza del presidente Renzi adesso il presidente Renzi si è spostato a Firenze ora in questa zona ci sono almeno cinque qualchiere enormi si può dire monumentali una delle quali è decisamente quasi perduta almeno di non farci un intervento immediato massiccio e molto severo due delle quali sono agibili anche se in cattive condizioni e due delle quali per fortuna sono state salvate perché in un modo o nell'altro sono diventate luogo di civile abitazione allora sono state soggette a una manutenzione spesso anche privata anche se a una manutenzione abusiva naturalmente perché la condizione della proprietà di questi immobili è complicatissima ma adesso naturalmente c'è il solito il solito comitato cittadino per la salvaguardia dei che vorrebbe impedire che questi monumenti vadano a finire in mano di privati che li potrebbero usare a scopo di lucro facendoci dei risorzi eccetera 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 è una storia che in Toscana ma credo anche in tutta Italia insomma si ripete infinite volte e di solito va a finire male di solito questi luoghi vengono abbandonati e cadono oppure vengono utilizzati eh per usi di lucro e quindi vengono anche restaurati ma restaurati in modo pesante ed arbitrario fino ad oggi non si è potuto fare nulla di nulla di più e nulla di meglio in molti casi se devo citare il caso fino ad oggi più felice lo faccio perché siamo a Bologna così si fa un omaggio anche a un illustre cittadino bolognese e anche un caro amico che è il professor Roversi Monaco Roversi Monaco è riuscito fino ad oggi a salvare un impianto che non è un impianto industriale che è una specie di edificio di riporto sulla montagna porrettana la famosa credo a Bologna famosissima Rocchetta Mattei di Riola che è stata anche in parte restaurata anche se ora i restauri si sono fermati non si sa ancora che cosa sarà adivita ma per il momento è sfuggita al duplice destino o di rovinare su se stessa o di essere soggetta a diventare un albergo di lusso per il momento non è successo nulla di queste due cose a Firenze o nel Fiorentino ci sono casi analoghi che invece minacciano tutto questo fra questi casi analoghi ci sono le famose gualchiere di di remole di bagno a ripoli e via discorrendo che dovrebbero essere oggetto di restauro e magari anche oggetto di reimpiego funzionale di reimpiego pubblico comunitario ma non ne sappiamo niente perché la situazione dei rapporti di proprietà è complicatissima i politici preferiscono non parlarne granché e noi noi comitati navighiamo nel nulla ma è interessante alla base per questo ve ne parlo ed è l'ultimo episodio che vi racconto è interessante perché alla base di questa operazione che ha fatto sì che sull'anno nascessero questi complessi industriali antelitteram perché poi accanto alla gualchiera si metteva anche il tiratoio cioè in realtà viene fuori che ai fiorentini del trecento era un po' balinata l'idea del factory system cioè quelle sono gualchiere si gualcano i fessuti e poi si mandano a tessere altrove a essiccare altrove eccetera però l'idea che si possano concentrare diverse fasi cioè un'idea che per noi è ovvio è naturale è banale ma noi siamo a monte delle catene di montaggio nel trecento siamo a valle delle catene di montaggio nel trecento si era molto a monte delle catene di montaggio per noi è del tutto normale la concentrazione delle fasi di produzione di un oggetto ma no nel trecento non si ragionava così e però e si sanno nomi e cognomi e i documenti ci sono quelle gualchiere erano antichi insediamenti che più o meno appartenevano tutti alla famiglia dei cerchi o dei donati eccetera alla fine del trecento o meglio a metà trecento vengono rilevate dalla famiglia degli Alberti la famiglia degli Alberti è una famiglia in crescita a metà trecento non appartiene alle oligarchie precedenti e ha l'idea che bisogna evitare per le alluvioni successive di doversi vedere privati delle gualchiere natanti e costretti a farle di nuove in attesa alla nuova alluvione che le ributti di nuovo giù e allora gli Alberti pensano di fare un grande investimento e di costruire delle gualchiere in muratura e con interesse nel comune e abbiamo un lavoro di con partecipazione pubblico privata gli Alberti riescono a farsi dare una notevole ma non poi astrale somma dal comune per contribuire a questo lavoro un migliaio di fiorini che non è poi tutta questa roba che probabilmente era un anticipo e con quelli cominciano a costruire delle cose che poi hanno continuato a costruire nel tempo e che hanno lavorato praticamente fino all'ottocento inoltrato del resto fino all'ottocento inoltrato questo tratto dell'Arno fino a Punta Sede è rimasto modestamente navigabile in più c'era stata la canalizzazione dei granduchi di Toscana il cosiddetto Arnaccio per cui la situazione idrica era nettamente migliorata probabilmente se la canalizzazione Asburgo Lorenese ottocentesca avesse continuato a essere efficiente fino al novecento anche semplicemente sotto forma di canali di scorrimento dell'acqua e la faccenda dell'alluvione in Firenze del 66 sarebbe andata diversamente invece la regolamentazione delle acque la canalizzazione delle acque dell'Arno è ancora in funzione ma è in funzione dal Basso Val d'Arno quindi a ovest di Signa fino a Livorno e lì se vi capita di sorvolare la zona in aereo cosa facilissima perché gli aerei da Firenze o Pisa la sorvolano sempre a bassa vuota perché o atterrano decollano e voi rivedete questi canali e vedete che sono fra l'altro ancora in modestissima funzione perché ormai le vie d'acqua non si usano più ormai si usano le vie di terra le ferrovie le vie di terra però tutto è tornato in fieri da quando i cinesi hanno cominciato a costruire la loro grande New Silk Road perché la New Silk Road è un sistema straordinario e badate che è sulla carta ma in larghissime zone della Cina funziona ed è un sistema combinato di ferrovie di autostrade di canali e di vie di percorrenza delle merci attraverso l'oceano quindi in pratica i cinesi stanno cercando di risolvere nei prossimi 50 anni con la via da Hong Kong ad Amsterdam e a Londra di risolvere il problema che le merci sono diventate troppe per essere trasportate in via per via aerea e il trasporto per via aerea è troppo costoso e allora bisogna tornare a trasporti in superficie fino a pochi anni fa questo era considerato da tutti gli specialisti una un'idea irrealizzabile se non pazzesca e invece pare che la New Silk Road sia veramente in via di costruzione tanto è vero che ormai stanno già presentandola come qualche cosa di già che sarà già in in atto già a partire dagli anni venti di questo secolo quindi fra qualche anno almeno la linea Hong Kong Amsterdam e Londra e quindi le cose si muovono rapidamente per l'alluvione di Firenze in effetti è successo questo nel 1966 tutto quello che si poteva fare quando c'era troppa acqua nell'Alto Val d'Arno era l'apertura delle chiuse della diga della penna per permettere all'acqua di defluire e che chiaramente veniva a creare una una sorta di alluvione controllata in quel caso non si è riuscito non si è riuscito a controllare l'acqua del bacino della penna non è non è crollata la diga per fortuna però l'effetto è stato largamente simile ecco la ragione della rapidità per cui in poche ore noi ci siamo visti letteralmente invasi da un'acqua che è cresciuta dai 6 agli 8 metri nell'ambito cittadino e questo era del tutto inatteso a meno di non ipotizzare il crollo della diga della penna oggi infatti siamo corsi ai ripari ci sono gli specialisti a cominciare dal magistrato delle acque che sostengono che in situazioni analoghe faremmo la fine un'altra volta del 1966 però sta di fatto che attualmente c'è un grande scolmatore cioè tra la diga della penna che è nell'aretino e la città di firenze si è andato creando nell'alto mugello il lago artificiale del bilancino che i fiorentini naturalmente hanno cominciato a ribattezzare il nostro piccolo lago di lugano e altre cose ma dove in effetti ci sono anche attività sportive la pesca la vela eccetera sta diventando una località di villeggiatura ha modificato notevolmente il microclima mugellano ed ha una estensione ovviamente per quello si sono dovuti sacrificare degli insediamenti ci sono delle città sommerse sotto il lago del bilancino piccole città piccoli centri che sono stati ricostruiti più a monte poi in piccolo un lavoro all'egiziana o alla cinese se volete questo lago serve da scolmatore fra l'altro di eventuali alluvioni oltre a servire per l'alimentazione anche a scopi alimentari perché l'arno a quel livello è ancora dotato di un'acqua facilmente non dico un'acqua potabile immediatamente ma un'acqua facilmente depurabile il che a ovest di Firenze non è più possibile quindi noi dovremmo dire oggi che un quadro come quello del 1966 non si potrà più creare a causa proprio di questo grande bacino idrico e fra l'altro è suscettibile di allargarsi di molti chilometri quadrati in caso di necessità perché il bacino di contenimento sgombro è quasi sempre in secca durante l'anno ma è utilizzabile in caso di bisogno questa è la visione ottimistica che quantomeno ci viene data dai nostri amministratori e dai nostri politici come sempre sapete poi ci sono le storie italiane il giorno che dovesse succedere qualche cosa di diverso allora poi ci sarebbe la la il grande ballo delle responsabilità ma a tutt'oggi questo è tutto quello che possiamo dire e non ci sono ragioni eh cogenti per mh abbracciare posizioni eh pregiudizialmente pessimistiche riguardo al futuro per quanto riguarda le alluvioni della dell'anno e poi per quanto riguarda tutto il resto questi sono fatti nostri che dobbiamo risolvere in altra sede grazie per la vostra attenzione grazie davvero Grazie.